Siamo molto curiosi, giriamo sempre per vedere i campi degli altri e quando vediamo che quel campo lì fiorisce prima, va meglio, che quello non innaffia quasi mai, non spende i soldi in quello e produce di più, andiamo a vedere che cosa sta facendo. E così tanti, si sta diffondendo, tanti hanno capito che effettivamente è così, funziona e funziona anche, lo sappiamo perché negli Stati Uniti sono ormai 15 anni mi pare e la gente mangia mais o GM, qualcuno faceva la battuta, ecco perché sono così grassi, no sono grassi li ho visti io perché mangiano, non finiscono, continuamente gelato, zucchero, popcorn, eccetera, eccetera, non per gli OGM, non c'è assolutamente nessun caso di intossicazione, eccetera, eccetera, bene, questo dovrebbe essere stato spiegato l'altra volta. Allora, il profitto è un meccanismo che se è giusto dunque deve essere regolato, eccetera, eccetera, è a beneficio. Una cosa che cito spesso è che va bene, ok, d'accordo, la Monsanto e la Bayen e l'altra e la DuPont si stanno arricchendo, sono delle multinazionali ricchissime, ma quale è l'impresa oggi multinazionale più ricca al mondo? Microsoft. Allora, dovremmo invitare tutti gli africani a non comprare computer con sistema Windows caricato, ma neanche i computer, perché anche quello arricchiscono le multinazionali, mica li producono loro, ma anche i trattori che magari sono giapponesi, Yamaha, eccetera, eccetera, state arricchendo le multinazionali, dunque aboliamo gli trattori, aboliamo i computer, eccetera, scrivete con la matita, però che non sia prodotta da una internazionale. Ma se sono scemi, loro non sono scemi, loro una mattina ce l'hanno, fanno quattro conti e dicono io me lo compro, il computer. Si sta arricchendo Bill Gates, vabbè, benedetto lui, ma io guadagno di più, io lavoro meglio. Perché non applicare la stessa logica, assurdamente banale perché logica, anche in questo campo? È vero, si arricchisce la Monsanto, bene, ma il contadino vede se gli conviene a lui o meno, se non gli conviene lasciare perdere. Vedete, è molto interessante, un aneddoto che è avvenuto un anno fa più o meno, è successo che la Monsanto, proprio la Monsanto, aveva venduto delle sementi di cotone, mi pare che fosse, cotone BT, in Sudafrica, ai contadini di Sudafrica, una aggruppazione di contadini, e dicendo loro che nella loro stimazione avrebbero ottenuto tanto di più. È successo che dopo un anno hanno ottenuto appena un po' di più di quello che ottenevano prima con le sementi normali, e allora si sono lamentati, e si sono ribellati. Io l'ho letto sulla stampa italiana, hanno detto voi ci avete ingannato perché ci avete dato un prodotto che non produce, non ci ha prodotto come pensavamo. La Monsanto ha risposto dicendo vabbè analizzeremo, secondo noi è per questo fattore che non l'avevamo considerato, lo studieremo, e vi promettiamo che l'anno prossimo otterrete di più. La notizia è interessante, soprattutto per me è per questo, perché dimostra come i contadini, quando non ottengono quello che loro considerano, dicono se l'anno prossimo non otteniamo quello che voi promettete non lo compriamo più, punto. Ma mica sono schiavi, possono perfettamente mandare a Monsanto quel paese, come diceva quello in francese, ma quello del Burkina Faso. Allora, io questa ideologia, che porta a dire che un qualche cosa è immorale, perché di mezzo c'è una multinazionale, eccetera, mi sembra, cioè, la vedo abberrante. Abberrante. Che poi non siamo coerenti, perché noi stessi, ripeto, magari lo stesso che dice quella cosa, poi arricchisce Bill Gates comprando il Windows 7. Perché gli conviene? Perché non lasci che faccia anche il contadino in India, in Africa, in America Latina? Perché parlo soprattutto di loro? Perché soprattutto a loro che guardiamo nella Chiesa. Justizia Pax si è occupato di questo tema proprio per questo, perché siamo convinti che gli OGM possano recare un beneficio importante a queste popolazioni, anche perché, va bene, andiamo avanti, volevo dire un'altra cosa, anche perché loro possono sviluppare i propri OGM. Vedete, creare un laboratorio per produrre l'OGM, fare ricerca e produzione dell'OGM, è molto più economico che creare una fabbrica di trattori o di computer. Moltissimo più economico. E allora un governo, e dicevo solidarità, allora un governo di un paese che capisca questo, può mandare i suoi bravi giovani a prepararsi da qualche parte, tornare e fare ricerca per produrre gli OGM che a loro sono utili, non alla Monsanto, a loro. Perché qui si cita, a noi non ci interessa il vostro BT, ci interessa un'altra cosa, e la possiamo sviluppare noi, con una ricerca. Ora, perché loro possano sviluppare questo, ecco che subentra un altro criterio della dottrina sociale della Chiesa, quello della solidarietà. Non solo giustizia, ma anche solidarietà. E dunque io sono convinto, è una questione morale quella di aiutare soprattutto quelle popolazioni che patiscono la fame, fame che non si deve soltanto alla mancanza di OGM, ci mancherebbe. Ci sono problemi di guerra civile, ci sono problemi di infrastrutture che mancano, ci sono tanti problemi che vanno affrontati. Attenti, non sto dicendo che gli OGM salveranno al mondo, no. Ma gli OGM, insieme ad altre politiche e strategie, possono, sono convintissimo, aiutare moltissimo queste popolazioni. Perché possono ottenere, con costi molto più bassi, quantità molto maggiori, con qualità dei prodotti migliori, anche in situazioni dove c'è una scarsità di acqua, un eccesso di sale, eccetera. Lasciando perdere poi la possibilità di addirittura produrre dei vaccini attraverso le piante modificate, geneticamente. Anche con quello che si sta facendo oggi, i benefici possono essere enormi. E allora io credo, e finisco con questo, siamo davanti a una questione morale. Cioè non si tratta più solamente se fanno male o non fanno male. Ma dato che ci sono migliaia, centinaia, cioè migliaia stavo assaggerando, ma centinaia, senza altro, che dimostrano da parte di laboratori, Unione Europea, accademie di scienziati di tanti paesi, c'è una raccolta, un bel libretto su gli statement di tutte queste accademie, eccetera, che dimostrano che non ci sono questi pericoli insuperabili, ingestibili nella produzione dell'OGM. E dato che possono dare un beneficio importante, soprattutto in alcune popolazioni, è una questione morale quella di non frenarli. Ora, cosa succede? Che siccome in Europa c'è tutta una situazione nel campo agricolo degli incentivi agli agricoltori, i quali vengono pagati a volte perché non producano, perché c'è un eccesso di alimenti, di cibo, e allora in questo sistema tutto basato negli incentivi, se introduci gli OGM, il pericolo è che crollino i prezzi, perché i prezzi cloreranno, e allora tutto questo si sconquassa e qualcuno vuole mantenere quel sistema di privilegi. Allora succede anche che l'Europa per questo mette delle barriere, delle proiezioni che per me sono assurde, sta già superando alcune di queste già con misure molto concrete su alcuni OGM già approvati, ma c'è stato ancora questo ritardo e in Italia non si può neanche sperimentare sul campo, cosa mi sembra assurda, ma questo fa sì che anche i paesi in via di sviluppo non possano neanche produrlo per esportare, perché loro se producono in Africa cottone BT solo per il fatto che è geneticamente modificato, non lo possono esportare, per cui non lo possono neanche produrre se non per il proprio consumo. E questo è una grave ingiustizia nei loro confronti. Non si tratta solo di che loro scelgano o no, ma che noi stiamo impedendo loro di poter svilupparsi di più per queste barriere assurde, illogiche. A volte basate in ideologie che io considero aberranti, a volte basate anche in interessi economici ancora più aberranti. Bene. Vi lascerò, come dicevo, le diapositive nel sito internet perché possiate leggere questi testi, eccetera, alla fine come avete visto ho sorvolato un po' le diapositive per sintetizzare e vi lascerò anche qualche testo a proposito di quello che abbiamo commentato stasera. Vi saluto e auguri a tutti. Arrivederci. Grazie.